Sapete cos'è successo a quello che faceva solamente battute brutte? No, cosa gli è successo? Ha vinto il premio Nobel! Ho sempre odiato la barba, finché non vi è cresciuta addosso! Ma che cazzo? Ho venduto la mia polletto, dopo tutto stavo solo a prendere polvere! E' questo il loro scopo, amico! Cos'è marrone onnipresente? Cosa? Un bastone! Un bastone! Stavo per dire la mia merda! Anche la Nutella! Sì, anche quella! Nutella! Ho una domanda per voi! Puoi andare in bagno nelle grotte? Posso? No, perché sono piena di pipistrelli! Ehi, Angel! Angel! Che c'è, Kellen? Cosa fa un marinaio dopo essersi messo a letto? Non lo so, non ne ho mai scopato uno! Sta... sta sotto coperta! Vattene da qui, Kellen! Oh, Ashley! Oh no, cosa c'è, Al? Che cosa ricevi da una mucca che inciampa spesso? Non lo so, cosa? Latte scaduto! Ho un'altra battuta che non riesco mai a raccontare! Credo che si senta orgoglioso ogni volta che sta per lanciarci la battuta finale! Oh, ho un'altra domanda per te, Ashley! Perché? Aprile potrebbe avere il regalo marzo? Non lo so... No, ma potrebbe averli in omaggio! Fattuto dilettante! Scendi dal palco! Angel, lascia! Lascialo continuare con le sue battute! Mi rende felice! Quante battute ho ancora in serbo? Zero! Scendi dal palco! Facciate ancora! Volete sentire una battuta sulle carte? No! A me era scartabile! Forse anche un po' tagliette! Oh!